La verità che apprendiamo dal mito dei Babelici nel libro di Genesi è essenzialmente la seguente. Per un verso la volontà di innalzare una torre alta fino al cielo è il non plus ultra della hubris, della tracotanza, della tracotanza che spiace a Dio, il quale interviene per ripristinare l'ordine della giusta distanza tra divino e mortale e dunque del giusto rispetto del limite. In secondo luogo l'erramento dei Babelici è quello di voler proporre un mondo unificato con un'unica cultura e un'unica lingua, ciò che spiace a Dio, il quale interviene ripristinando la molteplicità e la pluralità delle lingue e delle culture, da che la razza umana esiste nella sua individualità proprio come pluralità di culture, di lingue e di identità. Provare a negare le quali significa commettere una colpa e commettere ciò che a Dio spiace, il quale interviene nel testo di Genesi esattamente per ripristinare la sacra legge della misura e della multiculturalità delle identità plurali.